Ciao, sono Rosetta e sono Presidente della Sezione di Requaro Terme, provincia di Vicenza. In questi giorni al camp ho partecipato al tavolo vita di sezione con gli altri presidenti che erano qui con noi al camp, sempre under 40. Ci siamo confrontati su un po' appunto la gestione della sezione, in particolare per cercare di trovare delle soluzioni affinché i giovani siano motivati a restare all'interno della sezione e a contribuire poi alla vita della sezione stessa. Abbiamo pensato anche di eventualmente inserire negli statuti una clausola per una quota giovani in modo che ci sia un numero, se possibile minimo, di giovani presenti e attivi.